Il Vescovo Armando ha incontrato Sabato 10 dicembre in Episcopio il Vescovo Armando ha incontrato Olexander Zalovezchi, Vescovo Ausiliario di Chievi, in visita nella nostra città. Mirko Secce e Stefano Cambioli ammessi tra i candidati al diaconato. Concluso il ritiro delle famiglie della nostra diocese al santuario di San Giuseppe a Spicello. Sconfinato amore, seconde generazioni, quale futuro senza cittadinanza? Sabato 17 dicembre al centro pastorale un momento di riflessione e spiritualità. Una cultura capace di promuoverla a dimensione umana, il Vescovo ha incontrato gli insegnanti di religione. Ben trovati a questa edizione del TG Web. Sabato 10 dicembre in Episcopio il Vescovo Armando ha incontrato Olexander Zalovezchi, Vescovo Ausiliario di Chievi, in visita nella nostra città. Nell'occasione lo abbiamo intervistato anche e soprattutto per capire qual è la situazione attuale in Ucraina e come la Chiesa sta aiutando la popolazione sempre più stremata dalla guerra e dal freddo. Eccellenza, com'è la situazione adesso attuale a Kiev? È veramente quella che ci fanno vedere i telegiornali? È più grave, meno grave? Io che da alcuni giorni sono venuto in Italia e ho cominciato a vedere la vostra tv e sono stato colpito perché più o meno fanno vedere la verità. Sono contento davvero perché in alcuni paesi fanno vedere un po' a rovescio le cose e invece qui siete fortunati, perciò penso che gli italiani sono molto aggiornati di quello che succede da voi. Ma parlando della nostra situazione bisogna sempre chiedere dove tu stai, perché la situazione dell'Ucraina occidentale, centrale e quella orientale è diversa. Io provengo da Kiev, una diocesi che si trova a Kiev, questa è una Ucraina centrale, perciò noi come Ucraina occidentale non abbiamo più la guerra sul nostro territorio. La diocesi era invasa dai russi all'inizio della guerra e dopo questa famosa consacrazione alla Madonna fatta dal Papa, da tutti i vescovi del mondo, e in arco di una settimana i russi hanno cominciato a ritirarsi dall'Ucraina centrale. Perciò la gente che non crede non vede magari la connessione, ma tanti nostri credenti hanno detto che grazie alla Madonna è successo questo. E perciò adesso non abbiamo la guerra nell'Ucraina centrale, nella mia diocesi, però abbiamo sempre pericolo dalla parte di Bialorus, perché si trova proprio a pochi chilometri da Kiev che ci possono attaccare da quella parte lì. I nostri militari stanno preparando la difesa da quella parte lì. Abbiamo anche tanti profughi che sono venuti nella nostra diocesi che non vogliono andare all'estero. Avete tanta gente qui, ma non tutti vogliono andare all'estero perché a causa della lingua hanno paura dopo lasciare la sua famiglia. Hanno tanti anziani che non possono magari muoversi o i militari, cioè che combattono e loro gli mandano qualche aiuto, organizzano perciò... Quindi nella vostra diocesi avete un momento di stabilità, semi-stabilità ecco, siete riusciti a recuperare una normalità in qualche modo? Ancora poco fa abbiamo avuto questa stabilità, se si può dire così, però da quanto i russi hanno cominciato a bombardare tutte le città, non sei sicuro da nessuna parte, perché loro bombardano, come vedete, loro dicono che bombardano infrastruttura, però i missili arrivano al centro, sulla piazza, la mia città dove sono nato vicino, Vignica, un missile è arrivato proprio in pieno giorno, in mezzo della piazza che era piena della gente, è morto anche un bambino che è vicino della mia casa, no? Perciò adesso viviamo dall'attacco all'attacco. E la popolazione di che cosa ha più bisogno in questo momento? La popolazione di Kiev? Abbiamo grandi problemi, come tutte le altre città, ma alcune città di più, alcune di meno, con l'elettricità, perché è quello che manca. Più non abbiamo elettricità che abbiamo nelle nostre case. E con questo freddo che siamo sotto zero, quando manca elettricità, spesso le case diventano freddi, dopo con i bambini, con i anziani, non possono preparare il cibo. Perciò quelle nostre sfide, queste che cerchiamo, il nostro governo ha organizzato tanti punti di invincibilità, cioè grandi tende dove la gente può venire, sono riscaldate, c'è internet, si può prendere un po' di cibo, tè caldo, anche la Chiesa cerca di organizzare questi punti. Quindi dei punti di ristoro praticamente, dove la gente può andare e trovare un po' di caldo. Sì, però dopo quando accendono la luce, la gente cerca di fare il cibo, di riscaldare un po' la casa, e così viviamo. Io ho già menzionato in passato, quando sono stato intervistato, uno dei giornalisti mi ha chiesto, da che cosa lei è stato colpito, magari da qualche immagine in questi ultimi giorni. Sono stato colpito da una immagine, quando camminavo sulla strada, diventava già buio, perché era verso la sera, vedevo tanti bambini, perché i palazzi erano senza la luce, vedevo tanti bambini che facevano i loro compiti vicino alle finestre, immaginate, prendevano questa ultima luce del sole per fare i compiti, questa è una immagine che ti commuove. Domenica 4 dicembre, le comunità parrocchiali di Santa Maria Assunta e San Pierdamiani a Cagli si sono riunite intorno a Mirco Secce e Stefano Cambioli, ammessi tra i candidati al diaconato nella Santa Messa preseduta dal Vescovo Armando. Mirco e Stefano si incammineranno in un percorso di formazione e discernimento che li porterà a pronunciare il sì definitivo all'ammissione a questo ministero di servizio alla comunità ecclesiale diocesana. Ci spostiamo ora al Santuario di San Giuseppe a Spicello dove domenica 11 dicembre si è tenuto il ritiro di avvento organizzato dall'ufficio diocesano di pastorale familiare dal titolo alla ricerca dell'acqua viva. Un momento importante di ascolto della parola di Dio e di riflessione sul ruolo della famiglia oggi. A sviscerare il tema scelto il diacono Carlo Berloni che ha sottolineato come oggi più che mai sia importante che le famiglie si possano confrontare tra loro per non sentirsi mai sole. Di fronte alle difficoltà e ai deserti della nostra vita occorre andare alla ricerca di acqua buona dove dissetarsi. Non possiamo superare il deserto da sole ha ricordato il diacono alle famiglie presenti. Abbiamo bisogno di paradiso e la famiglia può e deve diventare sorgente di acqua viva per chi le sta intorno. Segno dell'amore di Dio. Il momento di ritiro poi si è concluso con la celebrazione eucaristica presieduta dal vicario generale Don Marco Presciutti che nell'Omelia ha ricordato come ci viene chiesto di gioire di avere coraggio di non temere perché Dio viene a salvarci in ogni momento e in ogni difficoltà della nostra vita. E cambiamo argomento sabato 17 dicembre alle ore 17 e 30 al centro pastoral di Ocesano è in programma sconfinato amore seconde generazioni quale futuro senza cittadinanza un momento di riflessione di spiritualità per riflettere sulle seconde generazioni e sulla cittadinanza agli stranieri. All'iniziativa promossa dall'ufficio di pastorale Migrantes della nostra diocesi dalla fondazione Al-Ikma di cultura islamica di Fossombrone dal gruppo Festa dei Popoli di Fano dall'associazione Al-Firiat e dall'associazione insieme per l'Ucraina Marche e l'integrazione FinFestiva parteciperanno l'imam di Fossombrone Omar Rakis l'imam di Fermignano Youssef Id Abdelkader e le diverse comunità etniche presenti nel nostro territorio. Introdurrà il momento il Vescovo Armando. E rimaniamo al centro pastorale diocesano dove in occasione del nuovo anno scolastico come di consueto sabato 10 dicembre il Vescovo Armando ha incontrato gli insegnanti di religione cattolica che lavorano nelle scuole del territorio diocesano. Ricordiamo che l'incontro era in programma a settembre ma è stato rinviato a causa del maltempo e dell'emergenza che ha toccato l'entroterra. Ad aprire l'incontro il direttore diocesano dell'ufficio scuola Roberto Regini che ha introdotto la riflessione del Vescovo incentrata sull'importanza del fare cultura una cultura capace di promuovere la dimensione umana e spirituale della vita per fronteggiare questo momento storico dove a volte lo scoraggiamento e la lamentela sembrano prendere spazio. Una cultura continuato il Vescovo capace di suscitare il desiderio profondo di una ricerca di dio e dell'uomo autentica frutto di riflessione e studio serio e approfondito con uno stile autorevole per promuovere la crescita integrale per oggi è tutto vi ricordiamo che è possibile seguire le nostre edizioni su fanodiocesi.it fanodiocesi.it e sulle nostre pagine social noi ci rivediamo a gennaio e auguriamo a tutti buone feste grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti